come la pizza la pizza rossa ma con il sugo che cos'è la rapa rossa ma quindi facciamo proprio la pizza rossa nel senso l'impasto rosso wow che spettacolo allora che cosa dobbiamo prendere come prima cosa per fare la pizza allora la prima cosa che dobbiamo prendere che cos'è la farina allora vai no svuotala tutta dentro e dai ti sei sporcato già tutto dai metti la farina dentro non per tutto la ciotola bravo ok adesso piano piano magari ti do una mano io versiamo l'acqua con il lievito dov'è l'acqua con il lievito l'acqua con il lievito qual è l'acqua questa qua pronto allora tutta dieta no tutta poca poca e adesso impastiamo ok dopo dopo vai comincia ad impastare dai impasta impasta mamma mia che disastro ci siamo serve ancora acqua vai impasta bene poi si serve ancora la farina me lo dici dai 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 impasta bene fai così bello andiamo subito a dargli il colore rosso va bene ti metto io la rapa va bene allora questa è la rapa rossa cotta al vapore ecco qua e adesso gira tutto mescola bene tutto ok mescola 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 vedi che diventa rossa attenzione wow bravo poi mangia poi mangiamola poi mangiamola certo che la mangiamo papà mamma mia ma che vai adesso dobbiamo mettere la farina che è rimasta lì che è rimasta lì sul piano di lavoro ok dai butta la farina sul piano ok no lì no quello è l'olio qua sul legno sì sì ok mo sparpaglialo bene piano 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 però dai attenzione perché adesso ah guarda un po' arriva questa eccola qua dai dai allora perfetto ci siamo quasi abbiamo fatto come è diventata? rossa come è diventata adesso? rossa rossa ma è buona? l'hai assaggiata? l'hai assaggiata? e allora come fai a sapere che è buona? allora adesso la dobbiamo far lievitare ok? per cui quanto tempo aspettiamo? due due ore aspettiamo va bene? due minuti va bene aspettiamo dai eccoci eccoci qua allora via lo straccio è diventata grande sembra un panino di lamponi di fragoline vero? vero? a te ti piace questa pizzetta allora adesso papino dobbiamo fare così dobbiamo mettere l'olio qua dentro ok? e poi stenderla lì ok? eccoci qua vai Nea mettiamo un po' di olio lì dentro attenzione questa è un'operazione molto pericolosa aspetta papino ti do ti aiuto va bene? allora aspetta guarda un filo d'olio qua un filo d'olio là un filo d'olio qua sac ok adesso dobbiamo prendere la pizza ecco qua due vai mettila dentro vai stendila 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 vai finisci dai fai con le dita dai vai oh ci siamo? si è perfetta? si bolle tadaam la mettiamo in forno? no perché? perché no perché è così ah ok dai forza vai apriamo il forno sei attento che scotta eh? oddio vai buttala dentro buttala senza scottarti ti do una mano io aiuto sta uscendo un caldo tremendo ciao pizza rossa di natale mamma mia ce l'abbiamo fatta? si batti cinque dai allora cosa abbiamo fatto? questi abbiamo preso le caramelle i cioccolatini da mettere dove? dentro la pizza perfetto e allora babbo natale che dice? se la mangia? si che me la mangio buona tu te la mangi? si vediamo questo esperimento di natale culinario come andrà si eccoci allora la pizza rossa è pronta vero? aspetta tiriamola fuori tiriamola fuori qua qua guarda è fuori scotta guarda aspetta 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 vediamo un po' oh 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 questa guarda che spettacolo la nostra pizza allora adesso che facciamo? mettere le caramelle dai fai vedere metti le caramelle su dai oh mettiamo tutti si eh? certo dai aiuto nooo ahah ahahah 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 guarda che spettacolo e la mettiamo qua e una qua wow vero e poi ne facciamo ancora una vero papi mamma mia che bontà eccolo guarda mettiamo qua ok wow che pizza fantastica ok adesso guarda che si è sciolta la cioccolata che buona mamma mia ho l'acquolina in bocca tu no come no ehi non mangiare prima le caramelle devi mangiare tutto il pezzetto di pizza guarda che spettacolo gnammi 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 che c'è babbo natale ciao babbo gnammi 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 madonna se l'è finita tutta dai assaggia adesso me lo mangio pure io ciao amici ci vediamo quando tra tre minuti saluta tutti ciao ci vediamo sabato prossimo si oppure a natale chi è che arriva al natale come si chiama natale e che gli diamo la pizza con ciao a tutti ciao ciao mangione io ti vedo mangione ciao ciao